Sono arrivato a quel punto della relazione con YouTube per cui sono disposto a fare 20 chilometri per entrare in una grotta per fare un video sui Neandertal, ok YouTube dobbiamo parlare, ma no dai spero che appreziate la scenograficità di questo luogo, dopo farò anche delle cose, credo, ma soprattutto vi chiedo scusa per l'audio, anzi no, non vi chiedo scusa perché oggi non sono io che devo chiedere scusa a voi, siete voi che dovete chiedere scusa a me, ok, come partire male con un video su YouTube, perché due motivi. Il primo è che ho guardato i dati su YouTube e il 64,8% di voi non è iscritto al canale, ma siete seri, guardate i miei video e non siete iscritti, cioè è bello che voi guardate i miei video, però se vi iscrivete, tipo per me fa, nel senso che a questo punto avrei tipo 60.000 iscritti, fa, fa, nel senso che posso vantarmi con le ragazze, no scherzo, alle aziende interessa, magari a chi vuole propormi di scrivere un libro, sicuramente interessa, è triste, funziona così il mondo, però davvero, cioè, scrivetevi a voi, non costa niente, per me fa una bella differenza. Il secondo motivo è che ho guardato nei commenti del video su Neandertal, in cui effettivamente un sacco di persone hanno fatto delle offese, tipo ai napoletani, a Salvini, ai leghisti, dicendo vuoi davvero vedere di Neandertal, vieni a Napoli, vieni a Pontida, a parte che non fa ridere, però questa cosa invece ha avuto un sacco di like e un po' mi dispiace per la maleducazione, non è bello offendere gruppi di persone, ma l'altro motivo è perché effettivamente mi sono reso conto, una cosa che paradossalmente era ovvia, ma mi sfuggiva, e cioè che Neandertal viene usato come un'offesa, come se fosse un sinonimo di troglodita, di idiota, scemo, quando non è così, nel senso, a me dispiace, mi è dispiaciuto abbastanza, perché nei miei video, in tutti i video in cui ho parlato di Neandertal, non li ho mai considerati stupidi, idioti, più scemi di noi sapiens, e ci sta, no? Nel senso, anzi io, se devo ammettere, ogni volta che leggo qualcosa sui Neandertal, qualche studio, qualcosa, niente, ne esco sempre abbastanza positivo, mi piacciono, sono una bella specie, una bella popolazione umana, super interessante, con un sacco di cose fighe, perché? Perché ce li immaginiamo stupidi, ovviamente il motivo è, ci sono almeno vari motivi, dopo vi parlo dei motivi per cui non abbiamo da pensare che Neandertal siano degli idioti, però nell'immaginario collettivo questa cosa si è sedimentata, probabilmente perché un sacco di rappresentazioni televisive hanno appunto rappresentato i Neandertal così, come questi buzzurri che vivono in delle grotte, spesso magari spaccando pietre a caso, muovendosi a caso, magari accovacciato in modo un po' scimmiesco, che si muovono spesso a petto nudo, completamente nudi, pelosi, che si muovono, sbattono cose, quando tutto questo ovviamente non ha senso, o meglio, può avere senso, ma non in misura diversa di quanto potevano essere dei Sapiens nello stesso periodo in cui sono vissuti in Neandertal. E poi l'altro motivo è perché dai, immaginiamocelo, nell'evoluzione umana c'è sempre questa cosa della camminata, no, verso il progresso, della marcia verso il progresso, per cui si parte da qualcosa che è una scimmia e si arriva a Homo Sapiens. E visto che ovviamente è una scimmia stupida, circa quanto un bambino, allora ci sta, no, che a metà strada ci siano i Neandertal, che sono degli idioti. Cosa che non è vera, non funziona così l'evoluzione, l'evoluzione funziona a rami, noi siamo un ramo dell'albero, i Neandertal sono un altro, abbiamo un antenato comune con i Neandertal che ha vissuto 700 mila anni fa. Quindi noi non abbiamo motivo di pensare che loro fossero chissà quanto più stupidi di noi. Anzi, anzi, cioè anzi, oddio, anzi, anzi abbiamo a pensare che fossero belli svegli Neandertal. E infatti adesso vi racconto un po' dei fatti che ce lo fanno pensare. Innanzitutto i Neandertal hanno vissuto per un sacco di tempo in Europa. E questa cosa sembra una cazzata, ma in realtà è difficilissimo. Cioè, mentre i nostri antenati e noi siamo stati in Africa per centinaia di migliaia di anni, loro erano in Europa, in Europa dove continuavano a oscillare ere glaciali, c'era il freddo. Non è così facile accendere dei fuochi in Europa, vestirsi con delle pelli in Europa, cacciare le prede europee con il freddo, quindi un consumo di energie molto più alto. Cioè, non è facile, anzi, era molto più facile fare come noi in Africa, belli lì, che almeno del freddo non dovevamo preoccuparci. O almeno non quanto i Neandertal. Soffermiamoci proprio su questa questione del vestiario, che sembra una banalità, ma non lo è affatto. Per vivere in Europa bisogna essere vestiti bene, davvero bene, non in quel senso, ma bene con delle pellicce. Noi sappiamo che probabilmente i Neandertal avevano un insieme di una sorta di quasi industria, un'organizzazione anche sociale, per garantire la produzione di pellicce di vari tipi, varie misure e con varie funzioni. Perché davvero, immaginatevi vivere in Europa al freddo senza i vestiti, è praticamente impossibile. E soprattutto se magari vivete nelle zone un po' più a nord di qui, oppure semplicemente durante l'inverno. Non avevano il pile loro. La seconda indicazione che abbiamo è che i Neandertal fossero dei grandi cacciatori. Immaginatevi, dal prede enormi a prede molto piccole, con tecniche diverse. Serviva una grandissima organizzazione per riuscire a cacciare, per esempio, un mammut. Oppure, non meno di sei mesi fa, è uscito un articolo su Nature in cui si analizzava il ritrovamento all'interno di un accampamento di Neandertal di più di cento specie di ossa, di specie diverse di uccelli. E qui, pazzesco, più di cento specie, ognuna probabilmente è cacciata in modo diverso, con tecniche diverse, trappole diverse, per riuscire appunto a riuscire a prendere tutte quelle specie. Alcune delle quali, oltretutto, probabilmente non venivano neppure utilizzate per essere mangiate, ma per le piume, perché sì, i Neandertal, per esempio, anche qui, avevano queste caratteristiche che sono tipiche anche di alcune tribù, sapiens, di usare probabilmente le pene anche per adornare dei copricapi o anche appunto per motivi simbolici, per motivi rituali. E qui arriviamo anche all'altra grande questione, cioè probabilmente neanche in questo noi sapiens eravamo così speciali. Per quanto ne sappiamo in questo momento, sono i Neandertal i primi artisti, è loro la prima ocra che abbiamo trovato, sono loro i primi dipinti, i primi oggetti incisi. Per quanto ne sappiamo, loro probabilmente avevano anche una sorta di protomedicina in cui utilizzavano delle erbe per vari motivi. Quindi in questo scenario, noi sapiens non sembriamo tanto più svegli di loro, loro probabilmente erano tanto svegli quanto noi, se non di più, qua apriamo una parentesi, ho da poco letto un libro che si chiama Mio caro Neandertal, in cui l'autrice esagerando, infatti in parte ve lo sconsiglio, tende ad accentuare molto queste caratteristiche di Neandertal, cercando appunto a volte anche di tirare fuori delle informazioni da dati che in realtà difficilmente parlano in modo così espressivo, e in cui però dipinge questi Neandertal come delle società complesse, molto complesse, tanto quanto noi se non di più. Che poi ricordiamoci una cosa, noi tendiamo sempre a ragionare per grandi unità, i Neandertal, quando molto probabilmente anche loro hanno diviso in comunità molto diverse, con caratteristiche diverse. Quindi ogni tribù di Neandertal aveva le sue idee, le sue credenze, i suoi modi di fare, il suo modo di cacciare, così come noi sapiens in questo momento. Se adesso andiamo in Papua Nueva Guinea a cercare delle tribù, alcune tribù hanno alcuni modi di comportarsi, altre tribù in altri modi e così via. È una cosa abbastanza normale. Quindi davvero, i Neandertal non erano degli idioti. Che sia chiaro questo. Questo tipo di pregiudizi esistono ancora nel mondo scientifico, e concludo raccontandovi un po' un ragionamento che vi faccio adesso insieme. Ed è questo. Immaginatevi di essere un biologo evoluzionista. Vedete due uccelli, un uccello con una macchia blu, un uccello con una macchia blu. Sapete che sono imparentati e quindi, vabbè, fate il ragionamento più ovvio da evoluzionista. Essendo due rami dell'albero della vita, e essendoci questa caratteristica in comune, difficilmente questa macchia è comparsa due volte in modo indipendente. La cosa più sensata è che l'antenato comune avesse la macchia blu. Provate a fare questo discorso sulle specie umane. Beh, i Neandertal erano abbastanza svegli, almeno non erano idioti. I sapiens erano abbastanza svegli, non erano idioti. Beh, io mi aspetto che l'antenato comune, Homo Helderbergensis, non fosse un idiota. Certo, provate a fare questo ragionamento. Anche qui, nell'immaginario collettivo, ok che i sapiens sono svegli, ok che Neandertal, ok, lo accettiamo. Ma mai che un uomo vissuto 700 mila anni fa l'antenato comune potesse essere sveglio, potesse avere della cultura chissà quanto complessa, magari perfino la capacità di usare degli strumenti. Ah no, 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 questo non è possibile, ok? Abbiamo dei record archeologici che ti dicono che via via nel tempo è aumentata la complessità di alcuni strumenti. Però, vedete, questo tipo di approccio è problematico. Già noi Homo Erectus ce lo immaginiamo come, di nuovo, un idiota. Cavolo però, Homo Erectus è andato in Asia, ha conquistato l'intera Asia. Fa pensare, una specie umana 1,8 milioni di anni fa è andata in tutta l'Asia. Anche loro non mi aspetto che fossero chissà quanto idioti, ok? Anche loro probabilmente avevano delle culture. Peccato che in 1,8 milioni di anni quasi tutto viene perso praticamente. E poi, oltre al fatto che noi siamo fortunati, che la nostra specie, i Neandertal, sono vissuti in Europa, in cui si può fare molta ricerca. Ci sono aree del mondo in cui ricerca se ne può fare abbastanza poco. Però, capite, togliere questo tipo di pregiudizi è fondamentale, poi, per riuscire a fare una ricerca sensata, utile, in questo tipo di campi. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, e basta, fate la campanellina. Davvero, quella è la cosa più importante. Cioè, gli iscritti alla fine valgono poco. Bene, oddio. La campanellina è la cosa più importante, ok? Basta, noi ci vediamo al prossimo video e ricordatevi che tutto è sempre più complesso. Grazie.